Sono 73 le imprenditrici del Sud Italia, selezionate per Fenomena il primo e unico salone italiano dedicato alle aziende a guida femminile in tre settori d'eccellenza del Made in Italy. Come l'edizione del debutto a luglio dello scorso anno, anche per quella di quest'anno, Pescara è stata scelta per ospitare l'importante Kermess che vede in primo piano il lavoro della Camera di Commercio Chieti Pescara. È un evento che vede l'imprenditoria del Mezzogiorno presentarsi su questo evento molto importante. Abbiamo scelto questa location che è l'Aurum che è per noi di pescare la fabbrica delle idee e quindi in questi due giorni si confronteranno anche in B2B delle imprese importanti del Mezzogiorno d'Italia e cercheremo di trovare anche la possibilità di nuovo business da parte di queste imprese. Stando alle stime è particolarmente importante proprio al Sud. Se una media nazionale è del 22%, al Sud raggiunge quote e supera anche il 28% di imprese rispetto a quelle maschili. Le donne sono coraggiose. Le donne hanno bisogno, soprattutto al Sud, non hanno un tessuto produttivo intorno a aziende per le quali poter lavorare. Quindi o è statale, l'impiego è statale, oppure devono espatrigia, devono lasciare il loro paese. E allora si inventano delle attività e sono quasi sempre attività di successo perché le donne del Sud poi sono particolarmente toste. Grazie a tutti.